Buon pomeriggio e benvenuti a Prospettive da parte di Matteo Cioffi. Seminare, olio di speranza e non aceto di amarezza, i cristiani siano consolatori e difensori come lo Spirito Santo. Questo uno dei passaggi della Catechesi del Pontefice di ieri nell'udienza generale. Ascoltiamo un estratto delle parole di Papa Francesco. Lo Spirito Santo non ci rende solo capaci di sperare, ma anche di essere seminatori di speranza, di essere anche noi come Lui e grazie a Lui dei paracliti, cioè consolatori e difensori dei fratelli, seminatori di speranza. Un cristiano può seminare amarezze, può seminare perplessità. E questo non è cristiano. E tu si fai questo o non sei un buon cristiano. E sono soprattutto i poveri, gli esclusi, i non amati ad avere bisogno di qualcuno che si faccia per loro paraclito, cioè consolatore e difensore. Come lo Spirito Santo si fa per ognuno di noi che stiamo qui in piazza, consolatore e difensore. Questa mattina Papa Bergoglio ha ricevuto i partecipanti all'udienza plenaria della congregazione per il clero. Il Pontefice ha chiesto a parroci e vescovi di non lasciare soli i giovani sacerdoti ed esaminare bene le vocazioni. Un passaggio del discorso del Santo Padre. non riempire quei posti con gente che non è stata chiamata dal Signore. non prendere da qualsiasi parte. Esaminare bene la vocazione di un giovane, l'autenticità. E si viene per rifugiarsi o perché sente la chiamata del Signore. ricevere perché, soltanto perché abbiamo bisogno, cari fratelli vescovi, questo è una ipotecca per la Chiesa. Un'ipotecca. Secondo, non lasciarli da soli, la vicinanza. Ma l'importante è che quel prete sentirà che ha un padre, un padre vicino, cioè vicinanza. Vicinanza ai preti. Non si può governare una diocesi senza vicinanza. Non si può far crescere e santificare un sacerdote senza la vicinanza paternale del vescovo. Sempre stamane il Santo Padre ha ricevuto in udienza Dragan Kovic il membro croato della Presidenza collegiale della Bosnia-Herzegovina. Dal CTV ce ne parla Alessandro Di Bussolo. Il servizio. Le sfide che ha davanti la Bosnia-Herzegovina, le sue aspirazioni europee e il dialogo interreligioso nel paese sono state al centro del colloquio tra Papa Francesco e il membro croato della Presidenza collegiale della Bosnia-Herzegovina, Dragan Kovic, ricevuto nel Palazzo Apostolico. Nel corso dei coldeari colloqui, riferisce la sala stampa vaticana, è stata espressa soddisfazione per le buone relazioni bilaterali, consolidate dall'accordo di base del 2006 e ci si è intrattenuti sulla situazione nel paese, sulle sfide che esso si trova ad affrontare e sulle sue aspirazioni europee, con uno scambio di vedute su temi di interesse quali la pace, la riconciliazione, il dialogo interreligioso e la presenza della comunità cattolica nel paese. Nel prosieguo della conversazione sono state passate in rassegna alcune situazioni dell'attualità politica internazionale, con speciale riferimento al contesto regionale. È tutto anche per oggi, grazie per la vostra cortese attenzione, buon proseguimento con i nostri programmi ed appuntamento a martedì prossimo.